Hola, oggi mi preparerò con voi, non devo andare da nessuna parte in particolare, quindi vi farò vedere più o meno come mi trucco, magari appunto nelle occasioni non importantissime, però magari si deve uscire a mangiare una pizza o qualcosa del genere. Ecco, i trucchi che faccio io non sono complessi, sono molto semplici e quindi, niente, io direi cominciamo. Allora, io comincerei, ecco scusate se magari a volte non guardo l'obiettivo ma guardo da un'altra parte. Allora, incomincio col primer di The Ordinary. Non guardate come faccio io, ecco infatti adesso non sto più guardando l'obiettivo ma mi sto guardando, altrimenti non vedo più niente. Ok. Applico un olio sulle labbra ed è il Pure Beauty di Astra. Per rilatare le labbra perché ultimamente le ho davvero molto, molto, molto secche. Poi, fatto questo passaggio, passo al fondotinta. Non guardate come è facile truccarmi. Ovviamente non sono una mega artist e quindi faccio un po' come mi viene a me, è più comodo. Applico il Sobio BB Cream. Prendo il pennello. No, forse prendo la spugnetta. Vabbè, prendiamo il pennello. La applico sulla mano. No, forse no. Ok. Ho avuto un po' problema a fare uscire il prodotto. Oddio, troppo, come al solito. Ho messo veramente troppo, però vabbè. Adesso lo sfumiamo bene bene. Io poi passo sempre anche una spugnetta per tamponare appunto. Diciamo che questo colore è molto più chiaro della mia carnagione. Quindi, insomma, non fateci caso. Perché io comunque dopo le vacanze rimango scura per un bel po'. Quindi il colore comunque rimane. Non lo applico sulle occhiaie. Arrivo fino sotto il collo, in modo da non creare proprio troppo lo stacco. Ok. Prendo una spugnetta e tampono, in modo da togliere l'eccesso del prodotto, perché l'ho messo veramente troppo. Ok. Ok. Applico. Adesso metto io. Applico il correttore, scusate, questo di Wet n Wild, nella colorazione Light Medium Beige. Vediamo se non è proprio... No dai, più o meno. È un po' più chiaro, leggermente, però. Per coprire le occhiaie va più che bene. Ultimamente ne ho parecchie. Io veramente parecchie, quindi... Ok. Perfetto. Poi applico la cipria, che come vi ho fatto vedere anche l'altra volta, è questa di Deborah Fulli, in collaborazione con Cosmify. L'applico così. Un po' su tutto il viso. Ok. Premetto che io faccio sempre prima la base e poi faccio gli occhi. Però, prima di passare al contouring... Ah no, prima cosa faccio le sopracciglie. Ok. 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 La matita è quella di Kiko, la numero 01. E poi applico il suo fissante, questo della NYX. Ok. Allora, scusate, ho dimenticato i pennelli per gli occhi. Scusate, eh. Non voglio prendere i pennelli. Non voglio prendere i pennelli, quelli piccoli, nell'armadio. Scusate, sto facendo le indicazioni a mio figlio, il mio aiutante. E intanto vi faccio vedere che utilizzerò la First Love di Clio, la First Love di Clio, questa qua. c'è il riflesso, porta il riflesso, è nuova, non l'ho ancora utilizzata. E poi ho anche la palettina, quella più piccola, per formare appunto altri colori. Quindi, allora, io comincerei. Il pennello da sfumatura. Allora, i miei pennelli non sono tutti, sono anche molto low cost, quindi non... Allora, questo pennellino. E applico questo color marroncino, che io adesso purtroppo non ho il coso per farvi vedere il nome. Ok, in questo modo. Nella piega dell'occhio, bene. Spero che vi vediate tutto. Ok. Poi applico con un pennellino piccolo. Alla fine dell'occhio, applico questo marrone. Molto scuro. Giusto per intensificare. C'è mio figlio che ride. E poi sfumo tutto insieme. Se vedete, muoversi la telecamera è perché mio figlio non sta fermo. In questo modo. E poi, come colore illuminante, penso che utilizzerò questo. Proviamo ad applicarlo col pennello, col pennellino, e vediamo se riusciamo a... Scusate, eccolo. Proviamo ad applicarlo col pennello e vediamo se effettivamente... Sì, direi che è molto bello. Molto, molto bello. A me piace parecchio. A me piace molto questo colore. Lo trovo proprio... A me piace un sacco. Cosa dite voi? A me piace tanto. Ecco, avete visto che comunque i miei trucchi sono davvero molto basic, basic, basic. Ok. Allora, poi applico il... Vediamo se lo trovo. Mi sa che ho dimenticato anche questo. Vabbè, volevo applicare il mascara, ma non lo trovo. Sai dov'è il mascara, tu? Arrivo, arrivo subito, eh. Applico, scusate. Applico questo di Astra, quello nuovo, il X Volume Mascara 2.0. E' la seconda volta che lo provo. Ne hanno parlato benissimo. Devo dire che... Oddio, come mascara... Fa il suo... Il suo dovere, ecco. Mi piace abbastanza. Visto che comunque ho anche le ciglia abbastanza... Fa un po' di grumi, devo dire la verità. Però lo trovo molto bello. E avendo io un po' le ciglia sfigatelle, applico il Kajal, questo di Kiko. Io di solito non applico mai la matita all'interno dell'occhio, perché avendo l'occhio abbastanza piccolo, riesco che... Mi rimpicciolisca ancora di più l'occhio. Però mi faccio vedere appunto... Però vabbè, questa volta lo metto. Metto anche un po' sulle ciglia inferiori. Perfetto. Qua ho fatto un piccolo grumetto. Ok. Ora passiamo al contouring. E io utilizzo la Hula di Benefit. Quella nella versione più piccolina. Più proprio piccola piccola. Da viaggio. Diamo un po' di colore, perché... Mi prendi lo scottex. Ah, c'è il mio assistente. Se non avrei lui. Il naso qua si può fare ben poco, però... Non sono molto brava a fare il contouring al naso. No, zero proprio. Vabbè. Ci proviamo anche questo. Ok. Ora mettiamo il blush. Io utilizzo questa palettina di Revolution. Pro. Diciamo che sono colori un po'... Più quasi... Ancora un po' estivi. Questa palette è molto pigmentata. Molto. Molto tanto. Un po' troppo. Sono... Sembro Heidi. Di qua non ho messo di più. Vabbè. Ok. Illuminante. Io adoro, adoro tantissimo. Questo di Ofra. Mi prende in giro... Mini Highlighter Blissful. Imita quello che faccio. È bellissimo. Bellissimo. Veramente. Solo che hanno un costo... Io ho quello piccolino, eh. Non ho quello grande. L'avevo trovato in un set... Non mi ricordo dove. In un set di... Non mi ricordo. Su Sephora forse. Non so. Non mi ricordo più. Però è molto bello. Dove un po' sotto l'arcata. Ok. Ora vado a togliermi il... Lucido. Eh no. Le labbra sono ancora un po' secche. Però è... Non importa. Vedete? Questa mattina... Ma è mattina... Matita, scusate. Di Avon. Sì. La Mark. Nella colorazione... Deve essere questa. Scalp It. Scalp It. È molto chiara come matita. Però la trovo anche molto bella. Quasi... Come si dice? Quasi annulla le labbra. Quanto è chiara. Io voglio sempre cercare di uscire un po' di più per fare le labbra un po' più carnose. Ma non ce la faccio mai. Faccio sempre danno e quindi mi fermo. E poi applico il rossetto... No, la tinta labbra di The Balm. La Sincer. Che è il colore. E poi sta tantissimo di menta. Davvero tanto. Non guardate le mie pellicine. Che si asciughi. Applico il Instant Matte di Essence. Per fissare il tutto. Spero di aver fatto vedere tutto. Ok, faccio asciugare. Sciogliamo i capelli. Qua è una bella lotta. Sciogliamo i capelli. Li sciogliamo in questo modo. E eccoci. Il mio make-up è terminato. Scusate se non ho mai guardato nell'obiettivo. Però cercavo appunto di guardare per truccarmi. Spero vi faccio vedere il trucco da vicino. Spero vi piaccia. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto. Io vi saluto. Vi mando un grosso bacio. Al prossimo video. E mi raccomando. Iscrivetevi al canale. E mettete un mi piace. Ciao!